Sì, sicuramente dal punto di vista delle prestazioni la squadra ha fatto veramente delle buone cose. Sta a noi continuare su questo trend, su questa linea di crescita perché è una squadra che ha delle qualità e può fare ancora meglio secondo me. L'obiettivo della società è sempre più o meno lo stesso, confermarsi come una delle realtà di questo campionato. È chiaro che per noi è un girone che non conosciamo, però ripeto, io sono fiducioso perché la squadra lavora bene, i ragazzi hanno veramente voglia di emergere e questa secondo me è la cosa che conta di più. Ma vabbè, a memoria prendo i complimenti, mi sembra un po' esagerato onestamente, però è una squadra che sta crescendo, lavora molto bene durante la settimana, quindi credo che la crescita sia frutto del lavoro settimanale. Ma sì, Ivan ha fatto una buona partita al pari degli altri, forse ha fatto un plauso particolare a Giordani che giocava anche in non perfette condizioni fisiche. Comunque la squadra mi è piaciuta in tutti gli elementi che sono in campo. Oggi non c'è niente da dire, abbiamo fatto malissimo, male dal primo minuto fino al novantesimo, al novantacinquesimo, alla fine della partita. Siamo partiti male, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però purtroppo capita quando si è all'inizio, questo tipo di partita può capitare, però non c'eravamo. Inutile commentare la partita, oggi hai fatto o non hai fatto, hai fatto una partita brutta, l'hai persa meritatamente, è un campanello d'allarme importante, però rimane il fatto che poi siamo anche all'inizio, siamo in costruzione ancora, non abbiamo lavorato tutta la settimana come dovevamo con la partita di Coppa, quindi ci sono un po' di attenuanti, però dobbiamo cambiare marcia, ho parlato già con i ragazzi, e ci sta, nel percorso di crescita ci sta anche questo tipo di partite, però venire qua oggi direi che abbiamo perso immediatamente, è una brutta partita, abbiamo perso, io sto lì davanti con i miei ragazzi dietro, ci sta, siamo alla seconda partita, veniamo da una vittoria in Coppa Italia, una vittoria in campionato, deve rimanere la tranquillità e pensare già alla prossima e cercare di andare a vincere subito la partita.